Ehi ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Steph, e che se ci giochiamo a Dragon Quest Build? E oggi ragazzi, proveremo la demo di questo gioco Abbiamo già visto qualche filmato e ci è sembrato assolutamente fantastico Esatto Ci tengo a precisare però che il gioco uscirà a metà ottobre Questa è solamente una demo che abbiamo deciso di provare con voi per capire se farci una serie o meno Esattamente, come potete vedere ricorda tantissimo Minecraft E le differenze sono che sono single player e che c'è una trama Praticamente da quello che ho capito c'è un signore oscuro che ha conquistato tutto il mondo E noi piano piano dobbiamo cercare di riconquistare il mondo portando pace e armonia E soprattutto costruendo cose meravigliose Io avrei preferito alle armi e distruggere il mondo Lo so Però va bene, però va bene Allora ragazzi, per questo episodio diciamo che schippiamo un pochettino la storia Cerchiamo di entrare subito nel vivo del gioco E se vi piacerà ovviamente nella serie seguiremo tutte le vicende del nostro personaggio Ma iniziamo subito Ok, dobbiamo stare attenti a non cadere E non farti male, mi raccomando Dobbiamo andare dove c'è quella luce e piantare una bandiera Piantando questa bandiera si chiama Stendardo della Speranza, come puoi leggere Piantandolo da quello che ho capito Tipo faremo tornare questo villaggio alle vecchie glorie E arriveranno degli abitanti Proviamo, proviamo e vediamo che succede Usa, boom Ok Wow, bellissima Praticamente il gioco dovrebbe promettere di combattere mostri Costruire oggetti, costruire palazzi Fare davvero un sacco di cose Ammazzare animali Craftare di tutto Insomma Cioè, davvero di tutto Allora, l'aria che si trova intorno allo Stendardo della Speranza che pianti diventa la tua base Più la tua base cresce, più l'indicatore che si trova sullo schermo nell'angolo in alto a sinistra Si riempirà Ah, ecco, base, livello 1 Quindi anche la nostra base avrà un livello, è fantastico Guarda, sta arrivando una persona Oh, salve signorina Salve Che cosa ti fai con questa strana bandiera? Questo posto è un chiedi speciale, così luminoso, così invitante Ti stai divertendo? Io sono Britta Qual è il tuo nome? Ciao Britta Allora Allora, se un residente della tua città ha un punto schermativo sulla testa vuol dire che ha una richiesta da farti Parlagli e vedi cosa vuole una missione Le classiche missioni come in qualsiasi gioco di ruolo Lei si chiama Britta Noi... Non ci ha fatto scegliere il nostro nome? No Non abbiamo un nome Non ci interessa? Mi dispiace Qua che carini che siamo Allora, mi devo un attimino abituare ai tasti perché se tu ti aspetti un tasto è sempre il contrario Ah, sono un po' particolari i comandi Neh Salti con cerchio e conizio metti pausa Ok, andiamo a vedere chi vuole Britta Ciao Britta Ciao Britta Allora, come dici? Sei stato tu a prendere lo standardo? Chi sei? E tra dove vieni? Questa casa mi sta davvero male Praticamente di essa non resta che la porta Ripara l'abitazione riempiendo i buchi nelle pareti con dei blocchi di terra Sì, avevamo notato che in effetti è messo davvero davvero male Ok, siamo pronti Ma io non ho capito se dobbiamo mettere la terra qui dove c'è questa casettina, sì? Giusto? E credo proprio di sì, è questa, mi sembra questa Allora dobbiamo tappare quei buchi Allora, apri la porta qui dentro Mi fa ridere avere la porta in un posto così distrutto Allora, lì Uno Uno Due Aspetta, perché posso mettere Vedi, questa cosa è super preciso Hai visto? Che bravo Ok, manca l'ultimo Ta Ok, Bidus ha portato a termine missione che Britta gli aveva affidato È incredibile È incredibile Grazie Britta Lo so che siamo bravissimi Una casa meravigliosa Guarda, ci ho fatto anche l'applauso Che carina, guardala Adoro Britta Vedi, non è come te Sala Adoro davvero tanto È carinissima Che bellina Ciao Britta Abbiamo fatto la tua missione Sei contenta? Ulala Ma è incredibile Poco fa i muri erano pieni di buchi E ora sembrano Novi Allora, ci sono i muri carini E poi c'è la terra Però va bene Fate di terra Diciamo che come inizio ci accontentiamo Esatto Come prima riparazione provvisoria della nostra casa E va benissimo Finalmente si fa sul serio Dobbiamo costruire un letto Wow Finalmente avremo il nostro primo letto Allora, mi raccomando raccogli tutti i materiali Questo così mi dà un ramoscello Mentre distruggendo questo Ok, la manciata di foglie Ok Praticamente se ho capito bene Combinando delle foglie Noi possiamo creare la paglia Ok La paglia ci serve per craftare il letto Giustamente Però sicuramente ci servirà anche del legno E credo proprio di sì Però, allora, a livello di ramoscelli Ne abbiamo già due Conta che Uh, guarda Cosa sei? Poi attenzione No, no, no Sarà cattivo Scusi Posso picchiarla? No, aspetta Ma poverino Non sapevi neanche se ti volevo attaccare Scusi Scusi Olle Cosa ci ha dato? Un seme d'erba Un seme d'erba Probabilmente ci servirà qualcosa Ci servirà qualcosa Ancora non sappiamo bene Come Io volevo provare a raffrontarlo A cosa ci serviranno? Tutti i materiali Sono anche carini Vedi, invece così ci prendiamo la terra Ovviamente A me piace anche un sacco Come prendere le cose Con questo bastoncino Che fa così Fa troppo ridere Troppo carina Picchiari brutto Ovviamente poi potremo sicuramente Migliorare l'equipaggiamento In futuro Guarda che carino quello Ciao pallina Ciao Vieni a essere il nostro animaletto domestico Spendiamo un sacco di fiori Vuoi venire a casa nostra? Possiamo parlare con Ma è cattivissimo Sembrava più bellino dell'altro Invece era cattivissimo Allora abbiamo capito Che i mob Sono tutti cattivissimi Hai capito? Melma Quella per le torce E infatti Quando io l'ho vista nel nostro inventario Che ovviamente ce l'ho data Britta La prima per fare le torce Ho pensato Come accidenti ci procureremo Poi in futuro Della melma blu Ecco qua la risposta Perfetto Perfetto L'albero non penso che lo puoi fare Credo che A rigor di logica Avrei bisogno di un'ascia Di qualcosa per tagliarlo Non lo puoi È molto probabile Però probabilmente allora ci bastano Dei ramoscelli in questo momento Secondo me sì Ne prendo un altro po' d'acqua Per sicurezza Perché voglio averne A sufficienza Certo certo Però secondo me ci basteranno Cosa sono queste cose rosse? Frutta Frutta Come la puoi prendere? Così Ok Un prunirtillo Bellissimo Che carini questi nomi Ma lo possiamo mangiare? Prova Buono Uh E ci ridà un po' di vita Contando che i mob Ci hanno picchiato Diciamo che non è male Recuperare la vita Bellissimo Bellissimo Io mi sto già innamorando Di questo gioco Allora È fantastico Adesso vedi Costruisci due letti Proviamo a costruirli Addirittura No per noi No per Britta Perfetto Certo vedi Pagliereccio Per fare il pagliereccio Servono tre foglie erbose Quindi costruiamo Ok E ce ne da uno Dobbiamo creare ovviamente Un secondo Un secondo Giuste giuste le foglie Sei perfette A questo punto Però credo che dobbiamo Craftare il letto Controlla bene Non compare O forse basta quello Magari No no è quello Guarda lì con cinachelli nella testa Ma siamo proprio straccioni Una stuoia Neanche Io pensavo almeno un letto Un po' fatto meglio Invece proprio una cosa in terra Vabbè dai Il primo letto è normale Fare le cose piano piano In modo graduale Ripiazziamo il nostro lettino Qui al centro Qui al centro È carinissimo Scusami Dobbiamo dormire Sembra Britta Eh ma io volevo fare Che tu levovi queste foglie E ne mettevi Una da una parte Una dall'altra Un po' più carine Vabbè tanto Però la lasciamo così Tanto ovviamente Non avremo questi salvataggi Quando inizieremo il gioco Quindi non è importante Cose interessanti Camera da letto di base Una stanza da letto Per due persone Realizzata con materiali poveri Aumenta del 10% I punti vita massimi Dei residenti Quindi Bella questa cosa Ottieni dei bonus Guarda come arriva correndo È felicissima Britta Guarda È molto felice Del letto che le abbiamo creato Sono contenta È sempre felice lei Qualunque cosa fai Mette un'allegria incredibile Britta Io l'adoro Ti giuro che l'adoro Bravissima Sta risultando di brutto Comunque dicevo Sì quindi costruendo delle cose Ottieni proprio dei bonus Anche per combattere Esatto Perché in questo caso Punti vita Bellissimo Quindi diciamo che Costruire non è totalmente inutile Quindi diciamo che ti premia E ti fa avere dei bonus È perfetta questa cosa Bellissimo Un sacco di novità In alta a sinistra Oltre alla base Che indica quanto è bella La nostra base E i nostri punti vita È comparso l'indicatore della fame Che sono 5 pagnotte carinissime È fantastico Quindi soffriremo anche la fame Avremo sicuramente bisogno di mangiare È bellissima questa cosa Altra cosa che ha parsa È l'orologio in alto a destra Dovrei spostare le webcam Lo so Lo so Perché bisogna far vedere Tutto benissimo Ci indica ovviamente Quando è giorno Quando sta per arrivare il tramonto È la notte Esatto E ho notato che attorno C'è pure la bussola Quindi sarà utilissimo Nel caso in cui Cosa ne so In futuro avremo missioni In cui ti diranno Vai a nord Almeno sappiamo In che direzione stiamo andando E sarà comodissimo Per muoversi Esattamente Mi piace il sacco Che c'è proprio giorno Tramonto È notte Ricorda tantissimo Don't Serve Ed è fantastico E penso che questa parte più chiara Sia addirittura l'alba Vedi che prima del giorno C'è anche la parte Un pochettino più chiara Potrebbe essere Saranno tutte le fasi del giorno Ed è fantastico Comunque abbiamo craftato Il nostro primo baule Guarda che carino Posizioniamolo qua Sì Sì Sono d'accordo Carinissimo Quindi noi lo apriamo E possiamo mettere Guarda che carino Tipo ta Metti da parte Metti da parte Metti da parte Oddio bellissimo Ci hanno chiesto di fare Una cosa molto particolare Allora in pratica Britta ci ha dato un disegno Per come vuole Una porta mi pare No mi sa che Cosa vuole che faccia La sua stanza E io ho il presentimento Che dove piazziamo Questo è il suo disegno Che dove piazziamo Questo disegno Costruiremo la stanza Dici Proviamo Così Provo Allora spostala un po' più Un po' più Verso l'interno Così 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 Vedi che si collega A questo percorso Vedi Ok Sì 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 Come si fa a guardare il progetto Scusa Devi premere No vabb No 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 Hai capito Sì Cioè Questa è la sostanza Come la vuole E ci serviranno 48 di terra Un falò Un banco d'amoratore Una porta di paglia E un baule E lo vediamo in 3D E vediamo anche Credo quello che manca Quello che abbiamo già fatto Fantastico No ragazzi Sto per piangere Sto per piangere da quanto è bello questo gioco È davvero bellissimo È ben fatto Lo adoro Lo adoro Allora dobbiamo andare a farmare come i cinesi Te lo dico Aspetta Iniziamo a provare scusami Se io vado qua Inizio a piazzare Perché vedi che ho il colore di quello che devo piazzare Ok Allora E però secondo me Una volta che è completato Non lo metti direttamente dritto No aspetta Vediamo 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 Guarda il progetto Vedi Risulta che abbiamo messo 5 blocchi di 48 Ah lo dobbiamo fare tutto noi Io pensavo Che ci servissero i mattiniari E poi piazzavi questa forma Che vedevamo E invece lo dobbiamo guardare E riguardare Ed essere sicuri di farlo giusto Perché lei vuole ovviamente La camera in un certo modo È bellissimo È bellissimo Fantastico Fantastico Inizio a costruire quello che posso Certo Vediamo un pochettino Alla progressione Dopodiché dobbiamo andare A procurarci un sacco di materiali Quindi vedi Terra Infatti vedi Quelli che non lampeggiano Sono quelli che abbiamo già messo 17 di 48 Poi ci serve Un falò Che sinceramente non so Ci dice cosa ci serve? No Penso che lo debba vedere Banco da muratore E porta di paglia Nella tua crafting table Esatto Ok Allora per il falò Ci serve Una melma blu Che abbiamo E l'abbiamo giusto depositata E due rami spesati Quindi questo semplicissimo Porta di paglia Ci servono delle foglie Quindi ricordiamoci le foglie Ok Altre foglie per fare il letto Quando scende il buio Ok Il sole non sarà in grado Di vedere molto lontano E il mondo si popolerà Di creature pericolose In cerca di prede Al calar della notte Trovo una stanza con un letto E riposa fino all'alba No vabbè Andiamo a dormire Andiamo Andiamo a dormire Andiamo a dormire Quindi è anche pericoloso Andare in giro per notte Diciamo che Durante la notte Volevo dire Diciamo che il gioco Non ce lo consiglia Che carino Io lo voglio in casa Questo personaggio Lo voglio come amichetto Ti prego È bellissimo Lo voglio tutto per me E guarda Si stiracchia Giustamente appena sveglio Ed eccoci qua Adesso è giorno Appena è appena arrivato il sole Molto carino Dobbiamo prendere i materiali Che avevamo depositato qua Che ci serviranno Ovvero questa Ah e basta Adesso ce l'avevamo già Ok Adesso proviamo a costruire Tutta la casa O giù di lì Quindi Partiamo dalla terra Che è la cosa più lunga da fare Allora Sì assolutamente Bisogna premere L1 In questo modo Ti propone il blocco sopra È abbastanza comodo Ti dirò Pensavo fosse scomodo All'inizio Ma mi ci sto abituando Diciamo che è tutta abitudine No? Sì 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 Giusto un pochettino di difficoltà Con quelli in basso Quando invece sei in alto È molto più semplice Terra completato Ok Quindi ci serve La porta Il falò Il baule Iniziamo a craftare Ok Non idea però Ancora del crafting table Quello rimane ancora Un pochettino Un mistero Su come dovremmo fare A metterglielo Ok Comunque ricordo È un misto Proprio totalmente Tra Minecraft e Don't Serve Sì Due giochi che adoro Quindi Sì 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 Esatto Fantastico Allora C'era anche questo Giusto? Eh Sì 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 Ok Abbiamo realizzato tutto Quindi adesso dobbiamo capire Il baule l'hai fatto? Eh Ce l'ha pure? Ti ho dimenticato Sì c'è anche il baule Lo mettiamo dopo Vabbè inizia a mettere le cose Che abbiamo già fatto Il fuocherello era Lì 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 Qua Esatto Bellino Poi la porta era Qui lì ovviamente È difficilissimo È l'ingresso Ta 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 Oh 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 Qua Vai Ok Perfetto Dopodiché manca Il banco da muratore E il baule C'è che bellino Che ti mette anche le spuntine Di quello che hai fatto E quello che manca Sì è carinissimo È davvero ben fatto Continua non capire Come si fa Il banco Perché non ce lo stanno Niente proponendo qua Vedi? Non capisco Probabilmente c'è qualcosa Che ci sfugge Abbiamo fatto il letto Inutilmente comunque Io non avevo capito Che il letto non servisse Pensavo fosse scontato Che servisse E invece no Bene effetti il suo letto È nella nostra cameretta Se ci pensi Non le serve Un altro letto Vedi manca solo il banco Il luogo perfetto Per chi ha voglia di costruire Fa venire voglia Di tirare su pareti e tetti I residenti Assolutamente sì Materiali e mobili Villaggio è epico È anche meglio di quanto mi aspettasti Ti dico la verità Non credevo ci Ci fossero tutte queste cose Da fare nel gioco Sono davvero sorpresa E davvero felice Di provarlo E di giocarlo Di tutto Insomma è bellissimo È davvero bellissimo Noi magari proviamo a registrarlo Poi se vediamo che c'è abbastanza Lo facciamo uscire Altrimenti non lo facciamo uscire Esatto Quindi se va bene Proviamo a fare un secondo video Di questa demo Dopodiché appunto Se va bene questo video Quando uscirà il gioco Faremo una super serie Ricordiamo Metà ottobre Quindi la serie Non sarà immediata Sarà tra un bel po' di tempo Esce tipo il 14 Se non sbaglio Di ottobre Esatto Quindi diciamo Inizierà tra un pochino E speriamo davvero ragazzi Che vi piaccia Perché questo gioco È davvero carinissimo Infatti speriamo davvero Che vi piaccia Perché io vorrei fare Troppo 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 Una serie su questo gioco Perché è meraviglioso Siamo troppo emozionati Dovremmo calmarci Ma mi diverto troppo Bene che ci piaccia così Se vi è piaciuto Lasciateci un like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per rompervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Grazie a tutti Grazie a tutti.